Io non so quanto entra... NOOOOOOO! Corriere... Povero divano... L'ultima notte insieme... Eh love è un pezzo di storia che... Eccolo... Un pezzo di storia che ha... Eccolo qua... Intanto adesso venga... Ciao ragazzi... Ciao prego... Sperate pure... Si si mettetelo... Qua nell'ampia... Sono riuscita... Possiamo uscire nello stream? Sono ancora in live... Ciao buongiorno... Si siamo in live... Sono in maratona... Adesso ti... Ti iniziamo a guardare... Ah bravi... Ti iniziamo a seguire adesso... Ciao... Ok... Lasciatelo pure lì... Va benissimo... Che fai gli streamer... Grazie... E io... Sono inventato questo format... Con lo streamer in vetrina... E streamer in vetrina si chiama? Si... C'è ancora in maranza... Che ti distorbe... No... Si... 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 E infatti... Aspettavamo questo divano... Però io sono in maratona... Faccio un live... H24... Sono da 7 mesi... In diretta... E allora... Visto che sto dormendo... Sempre qua sul divano... Che è un disastro... Mi sono fatto quello che è più bello... Ragazzi... Studiate... Si... Vado anche un po' in giro... Però... Complimenti... Il belato del cazzo... Sono famoses... Sono famoses... Bravi... Loro si che lavorano... Non come me... Realmente... Che grande... No... Cosa lo fa... Firmo? Si... Guarda che bello... E basta... Ciao... Grazie mille... Adesso ti seguo? Va bene... Vi metto su due... Va bene... Ciao... Ciao... Che salve... Che bravo... Allora... Adesso qua sono... Chezzi... Questo lo devo far... Che... Quanto pesa... Porco... Andando molto bene... Sto andando alla grande... Sto andando... Ah... 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 Ecco qua... E intanto comunque da solo... ho già fatto metà del lavoro si può dire sta? passa? no devo togliere questo porca puttana che versi sono? che versi sono? questo lo piazzetti là ah la pianta tipulina rompe no no ah cazzo rotta la pianta rotta merda cazzo 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 ed eccole un ricoglioni totti di madre ah 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 pelato del cazzo ah 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 bel bel siamo alla follia forco questo qua sotto è chiaramente irregolare ero fuori bel bel divan porco che si che si che si che che si fa ah 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 l'ho liberato dalla scatola sono salve signorina l'ho liberato dalla scatola adesso che si fa che faccio adesso che fa che desiderano qua che è sto filo apro c'è un chitto c'è un chittamento qua a chitto ecco è arrivato l'aiutante orco orca puttana cazzo ma io devo avvitare questo orca puttana o merda cos'è successo aia aia brucia io non so quanto entra no 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 merdissima gg così ci bisogna fare ma cosa ridi cosa ridi gg Nooo! Chiame l'arco! Chezzo! Ma son fatte di merda queste punte! No, no, io esco! Mi dispiace, io esco! Vabbè, mettiamo una vita in meno qua! Bacchalla! Sì, ti stiamo prendendo un tè presidenziale, visto che sono le cinque! Eh, però? No! Arco! Arco, mamma mia! Arco! Arca vita! Ah! Porca! Ah! Porca! Ah! 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 L'avvito a mano! Come avvito a mano? Con l'avvitatore a mano! Ma usa il tascialito, è bestia! Vabbè, lo lascio così, lo lascio! Vabbè, solo una non è avvitata! Fatto, fatto! E poi lo giriamo da sopra! Vai, 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 vai! Destra, destra! Ok, vai, vai! Polissimistra! Ok, bravo! Tu togli! Dovevi aiutare! Uh! Ce l'abbiamo fatta! Sono felice! È bello! Ah! Mamma mia! Che comodi te! È bello! Cioè, ovviamente quando lo apri c'è più spazio! È un po' streppino! Guarda che curo! Che bello! Qua anche in due c'è più spazio! Sì, è troppo comodo! Ma assolutamente! È due piazze! Molto comodo! Fin U, sia così! Gesù! Gesù! Giù! Gesù! Grazie a tutti